Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6, subito la cronaca in apertura. È stata sfiorata la tragedia ieri sera a Teramo quando un ragazzo di 18 anni dopo aver rubato la pistola al padre giocando con gli amici si è sparato al cranio in maniera accidentale. Il giovane si trova in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo, il servizio di Alfredo Primante. La sua camera è proprio davanti all'edificio dove il ragazzo si è sparato o ha sparato. Cosa ha sentito? Ha sentito solo un tac perché stavo ancora sveglio, stavo a vedere la televisione ma già l'avevo spento, sento un tac, però un tac che non si sente tutti i giorni. Mi sono affascinato, aveva arrivato l'ambulanza, è arrivato 3-4 macchine, una macchina, l'ambulanza, un'altra macchina e vediamo scendere per le scale di questo palazzo, questo ragazzo bianco come la cera. E i ragazzi che vivevano e che vivono qui lei li conosce? Li conosco di visto, mi sembrano tutti dei bravi ragazzi. Secondo lei che è successo? Io penso che sarà stato uno scherzo tra di loro, l'unica cosa è uno scherzo tra di loro, non c'è niente di strano. Doveva essere soltanto un gioco che però ha rischiato di costare la vita ad uno studente di 18 anni, finito in gravi condizioni dopo un lungo intervento chirurgico eseguito da tre diverse equip nel corso della notte all'ospedale Mazzini di Teramo. Il proiettile calibro 9 partito dalla pistola che il ragazzo aveva sottratto al padre che la deteneva regolarmente gli ha trapassato il cranio. Il 18enne di Nereto dopo aver rubato la pistola è arrivato a Teramo in un appartamento al terzo piano di un condominio popolare di Via Tevere nel quartiere San Berardo che condivide con un suo amico e dove ieri sera, poco prima della mezzanotte, si trovavano altri tre coitanei. Sono loro i testimoni del dramma che hanno raccontato quanto accaduto agli uomini della squadra mobile e della polizia di Stato. Il ragazzo sarebbe peombato in casa all'improvviso impugnando l'arma e agitandola. Poi il 18enne avrebbe avvicinato la pistola all'altezza della tempia destra e a quel punto sarebbe partito il colpo. Non mi sono sparato, queste le prime parole dopo l'incidente che il ragazzo avrebbe detto quando era ancora cosciente. Una volta stabilizzato è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Mazzini dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici che hanno evidenziato fratture gravissime. I sanitari hanno rilevato un foro di entrata all'altezza dell'osso temporale di destra, poco sotto la tempia e sul bordo dell'orbito oculare e il foro di uscita sulla guancia sinistra sotto allo zigomo. All'operazione hanno lavorato i chirurghi dell'otorino, del maxillo facciale e della neurochirurgia senza però poter valutare la riuscita dell'intervento. Ora il ragazzo è in condizioni gravi ma stabili monitorato continuamente nel reparto di rianimazione. Su quanto accaduto ieri sera invece dovranno fare luce le indagini della squadra mobile Teramana diretta dal vicequestore aggiunto Roberta Cicchetti. Al momento l'ipotesi più probabile anche stando alle prime parole del ragazzo è che sia stata una bravata. Dunque sarebbero escluse volontà di suicidio e giochi di particolari tipo roulette russa. Il padre del ragazzo appena si è accorto che l'arma non era nel ripostiglio dove la teneva smontata si è subito precipitato assieme alla moglie a Teramo ma purtroppo è arrivato troppo tardi. Un bambino di appena 15 mesi ieri sera in un'abitazione di Cusciano frazione di Montorio Alvomano ha bevuto accidentalmente del brillantante che si usa per le lavastoviglie ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Il bimbo, figlio di una coppia straniera, subito dopo aver bevuto ha accusato forti dolori all'addome per via dell'alto potere corrosivo del liquido. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 il piccolo è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili e non in pericolo di vita. Il pronto intervento dei medici del Mazzini gli ha salvato la vita. Un uomo di 37 anni di Pescara, Guerino Spinelli, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di usura, avrebbe applicato tassi da capogiro per un presito elargito ad un uomo di 43 anni che si era venuto a trovare in difficoltà economiche. Paolo Renzetti. Un episodio di usura portato a luce dai carabinieri del comando provinciale di Pescara. Maggiore Scarponi, come siete arrivati a dimidiuare il presunto usuraio? È stato tratto in arresto un usuraio di Pescara. L'attività è iniziata a seguito della denuncia della vittima la quale per quasi un anno ha pagato le somme che riceveva in prestito. Erano piccole somme di denaro, di volta in volta, circa 1000 euro e dovevano essere restituite però a distanza di una settimana con un tasso di interesse del 50%. Quindi 1000 euro presi in prestito dopo una settimana 1500 euro. La vittima ad un certo punto non è riuscita più a saldare il debito e dopo aggressioni e minacce e dopo aver dato la macchina, il proprio bancomat e il proprio PIN è stata costretta per cercare di uscire da questa morsa terribile a sporgere denuncia. Le somme complessive sono pari a circa 10.000 euro quelle che sono state ricevute. Le somme date sono circa 15.000 euro nel giro di poco tempo. Dall'usura non si esce. Con questi tassi è impossibile uscire. L'unica via è quella di denunciare alle forze di polizia che si è sotto usura ed eventualmente si accede poi a una serie di meccanismi, il primo è il fondo anti-usura che possono aiutare la vittima ad uscire da questo tunnel. Negli ultimi periodi le attività che abbiamo svolto contro l'usura hanno riguardato cittadini privati, non aziende. E questo da una parte è un fenomeno positivo relativamente, mentre dall'altro è un fenomeno preoccupante perché significa che tutte le persone possono finire in questo circolo. Perché anche la famiglia che si trova in difficoltà per piccole somme di denaro che non riesce ad attingere ai circuiti ordinari finanziari è costretta o decide una scelta assolutamente errata che è quella di rivolgersi a usurai. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni per chiedere di sospendere la richiesta di risarcimento delle provvisionali pagate ai familiari delle vittime del sisma dopo il primo grado di giudizio del processo alla Commissione Grandi Rischi i cui membri sono stati assolti nei successivi gradi di giudizio. Il servizio di Germana Dorazio. Dopo l'indignazione per la richiesta ai familiari delle vittime del risarcimento della provvisionale pagata dagli imputati nel processo Grandi Rischi il sindaco dell'Aquila nell'ultima settimana di mandato scrive al Presidente del Consiglio Gentiloni Alla luce della tragicità degli accadimenti dell'aprile 2009 si legge nella nota del sindaco della complessità della vicenda giudiziaria nota come processo Grandi Rischi per il rispetto che si deve portare alle stesse vittime ai loro familiari e all'intera comunità aquilana le chiedo di individuare con la sensibilità che la contraddistingue la giusta soluzione che preveda il ritiro della richiesta di restituzione del risarcimento Gli imputati della Commissione Grandi Rischi infatti furono condannati al pagamento di una provvisionale un anticipo del risarcimento civile e dei danni subiti Essendo immediatamente esecutivi i risarcimento furono liquidati Si trattava di somme che andavano dai 200.000 ai 400.000 euro a testa in base ad un calcolo effettuato in considerazione di fattori come l'età della vittima o la professione e il grado di parentela con la parte civile Quando la sentenza di primo grado del giudice Marco Billi pronunciata il 22 ottobre del 2012 riconobbe il nesso di casualità tra le rassicurazioni fornite dagli esperti e quelle morti condannando i sette imputati Franco Barberi, Bernardo De Bernardini, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gianmichele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce Il 6 febbraio 2015 tuttavia la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo tutti gli imputati ad eccezione di Bernardo De Bernardinis riducendone però la pena a due anni di reclusione In pratica non si riconosceva più il nesso tra le rassicurazioni e le morti Il 24 marzo del 2016 poi la Cassazione ha confermato la sentenza il 30 giugno alla presidenza del Consiglio ha messo in mora i parenti delle vittime diffidandole a restituire quanto incassato a titolo risarcitorio a seguito della condanna di primo grado In Abruzzo crescono i livelli di LEA ovvero i livelli essenziali di assistenza nel 2015 raggiungono il più 11,7% superando di 20 punti la soglia di adempienza Francesca Romana Testi La regione Abruzzo presenta un rendiconto sui livelli dei LEA raggiunti nell'anno 2015 un vero incremento in positivo se si comparano i dati rispetto al 2012 che segnava un più 0,7 divenuto tre anni dopo un più 11,7% Si tratta di un punteggio conseguito in merito a 21 voci che prendono in esame tre grandi aree suddivise in assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera 182 il punteggio raggiunto nel 2015 con un punteggio minimo richiesto di 160 segnali positivi che soddisfano l'assessore regionale alla sanità C'è un andamento largamente positivo ebbene la regione Abruzzo tra il 2015 e il 2014 ottiene un incremento record di 19 punti spalmati prevalentemente sull'assistenza territoriale distrettuale e sulla prevenzione sono salti in avanti sulla qualità delle cure attestate anche nell'ultimo verbale del tavolo di monitoraggio laddove il Ministero della Salute ha precisato che si dà atto alla regione Abruzzo di ampi miglioramenti sulla qualità delle cure è una promozione a pieni voti che ovviamente ci fa essere soddisfatti sul lavoro che abbiamo alle spalle ma che ci incoraggia anche sui prossimi obiettivi che dobbiamo tutti insieme raggiungere Guardando quella che è una classifica nazionale dove si attesta l'Abruzzo ma intanto noi abbiamo quelle del 2013 e del 2014 non abbiamo ancora le classifiche legate al 2015 perché abbiamo il nostro risultato ma non conosciamo ancora il risultato delle altre regioni e sarà il Ministero della Salute a pubblicarlo per tutte le regioni però va da sé che se l'adempienza si ottiene a 160 e l'Abruzzo oggi è a 182 certamente è stato fatto un grande passo in avanti che attesta che questa regione oltre a concludere l'esperienza commissariale è riuscita ad anche incrementare la qualità della propria assistenza di salute Il perfezionamento dell'operazione che porterà le tre good bank sotto il definitivo controllo di Ubi è fissato per domani e a guidare nuova banca Marche, nuova banca Etruria e nuova Carichietti sarà un presidente bergamasco doc è quanto scrive oggi il Corriere della Sera edizione di Bergamo precisando che si tratta dell'ex direttore generale della ex popolare di Bergamo e membro del Consiglio di Gestione Osvaldo Ranica il closing precisa il Corsera avverrà domani dopo che tutte le caselle tra autorizzazioni e accordi vari sono andate al loro posto nel rispetto dei parametri fissati Cambiamo pagina, a sinistra italiana presenta una interrogazione parlamentare urgente sul passaggio delle aree di Solvay al comune di Bussi sul Tirino la richiesta è quella del chiarimento da parte del Ministero dell'accordo di programma firmato lo scorso 2 maggio per il passaggio di proprietà delle aree 2A e 2B precedentemente bloccato poiché non consentito dalla legge Francesca Romana Testi Bonifica di Bussi ancora tra molte incertezze questa volta a sollevare dubbi e preoccupazioni è Sinistra Italiana che chiede chiarimenti su responsabilità del comune di Bussi dopo la notizia della volontà del comune di acquisire l'intera area Il 2 maggio scorso si è chiuso un accordo di programma tra la Solvay e il comune di Bussi la regione Abruzzo e il Ministero in cui si vincola la bonifica e il percorso di riqualificazione dell'area al passaggio delle aree dalla Solvay al comune di Bussi senza passare come si è sempre fatto perché in 50 siti di interesse nazionale si è sempre fatta un'altra procedura che è quella da privato a privato con il controllo del pubblico che è la procedura che garantisce la sicurezza della bonifica oggi di colpo stranamente la regione Abruzzo e il Ministero avallano un passaggio delle aree al comune al prezzo simbolico di un euro senza nessuna reale garanzia da parte degli industriali che dovrebbero subentrare che a oggi sono solo sulla carta quindi vogliamo capire i motivi e per questo abbiamo presentato un'interrogazione al Ministero per capire come mai avalli una situazione del genere quello è il rischio, si è sempre svolto così che un privato che inquina va a concordare con il pubblico la bonifica dell'area con un passaggio di controllo da parte del pubblico e l'area se il privato decide di smobilitare per dare garanzie che rimanga il processo di bonifica in atto si passa a un altro privato senza passare tramite il pubblico quindi il passaggio da privato a privato garantisce che chi subentra si carica oneri e onori quindi investimento sicuro per industrializzare l'area e soprattutto la certezza che si continua a bonificare ecco noi oggi queste garanzie non le abbiamo con un passaggio di questo tipo iniziano i lavori per realizzare il nuovo depuratore di Tortoreto e Giulianova Nord il progetto della Ruzzo Reti di Teramo costerà oltre 5 milioni di euro sarà realizzato dal colosso francese Suez e rappresenterà la salvezza ambientale del litorale Teramano Tania Bonnici-Gastelli il colosso francese Suez realizzerà il nuovo depuratore di Tortoreto e di Giulianova Nord il primo lotto dei lavori è stato consegnato ufficialmente a Teramo dal presidente della Ruzzo Reti Antonio Forlini alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso il progetto che si concluderà nel 2018 costa complessivamente oltre 5 milioni di euro e rappresenta la salvezza ambientale del litorale Teramano il problema principale del depuratore di Tortoreto è la sua localizzazione attualmente perché è in un'area sottoposta spesso a esondazioni da parte del Sarinello e quindi era necessaria questa delocalizzazione per evitare disservizi che negli ultimi anni soprattutto d'inverno sono stati frequenti aumenta poi la capacità depurativa perché passerà da 44 mila abitanti equivalenti a 62 mila quindi con un notevole incremento quindi diciamo sicuramente una situazione che definitivamente risolverà i problemi quei pochi problemi che salto realmente ci sono in quella zona e per i residenti? allora i residenti è chiaro che purtroppo la logica del NIMBI vale anche per i depuratori ed è chiaro che nessuno vorrebbe un depuratore diciamo tendenzialmente vicino casa però vi assicuro che sono stati fatti studi e verifiche di quelle che sarebbero state le soluzioni alternative e dal punto di vista sia dei costi che della ubicazione l'ubicazione che poi è stata prescelta è la migliore in assoluto il presidente D'Alfonso ha poi spiegato che il secondo lotto dell'impianto indispensabile per la dismissione del vecchio depuratore di Tortoreto è tra i progetti previsti dal masterplan della regione Abruzzo alla domanda sul futuro degli Ato enti doppione dopo la nomina del nuovo direttore dell'Ersi ente regionale servizio idrico D'Alfonso ha ribadito che sarà proprio l'Ersi l'unica cabina di regia in materia d'acqua ore contate dunque per gli enti d'ambito abruzzesi e rispettivi consigli di amministrazione i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara chiedono che dopo Montesilvano anche a Pescara si utilizzino le frottotrappole per scovare i cittadini che gettano i rifiuti fuori dagli orari previsti per il conferimento i soldi raccolti verrebbero utilizzati per l'abbattimento delle barriere architettoniche consigliera Sabatini si parla della raccolta dei rifiuti e soprattutto di chi getta rifiuti fuori dagli orari previsti per legge a Montesilvano c'è un progetto che funziona quello delle fototrappole voi sperate che questo progetto questo esempio di Montesilvano sia esportato a Pescara? Sì, noi seguiamo l'esempio dei colleghi del Movimento 5 Stelle di Montesilvano che hanno ottenuto l'installazione di fototrappole ossia telecamere che si spostano quindi mobili e che vanno a individuare quindi a fotografare gli incivili che non conferiscono correttamente rifiuti magari lasciano i cumuli vicino ai cassonetti o creano delle vere e proprie discariche abusive questo ovviamente ha un costo perché il servizio di rimozione di questi rifiuti viene pagato dai cittadini di Pescara abbiamo visto anche con i colleghi di Montesilvano che addirittura ci sono cittadini provenienti da altri comuni che vanno a conferire nella città di Montesilvano quindi noi chiediamo che vengano installate 10 fototrappole un costo all'incirca di 3.000 euro in modo tale quindi da sanzionare chi si comporta in maniera scorretta e chiediamo che questi proventi di queste contravvenzioni quindi con importi che se saranno simili a Montesilvano potrebbero essere intorno ai 30.000 euro vadano per un piano di eliminazione delle barriere architettoniche quindi un esempio di sanzione che può alimentare un circuito virtuoso di vivibilità, di decoro urbano della città e anche di qualità della vita dei cittadini pescaresi Antonella Ballone, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Teramo venerdì scorso è entrata a far parte del Consiglio Generale di Confindustria massimo organo di governo di Confindustria nazionale la giovane imprenditrice è stata eletta nel corso delle procedure che hanno visto l'elezione anche del nuovo presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria Alessio Rossi la candidatura all'importante organo nazionale è stata proposta dal Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo di cui Antonella Ballone è componente il mio impegno, dichiara Antonella Ballone sarà l'insegna della costante partecipazione e condivisione delle attività con il sistema di Confindustria l'incarico si aggiunge alla recentissima nomina della giovane imprenditrice Teramana alla presidenza di Eurolines Organization organizzazione europea espressione di 27 imprese fra le più rappresentative a livello continentale nello specifico settore del trasporto internazionale di passeggeri su gomma dal prossimo giovedì 11 maggio e fino a domenica 14 l'area antistante lo stadio Gaetano Bonolis di Pianodaccio a Teramo ospiterà la 29esima edizione della Fiera dell'Agricoltura animali da fattoria, prodotti agroalimentari, macchinari agricoli, piante e fiori oltre al risparmio energetico, edilizia ecosostenibile, giardinaggio e prodotti commerciali per l'agricoltura aprirà i battenti giovedì 11 maggio la 29esima edizione della FAT la Fiera dell'Agricoltura di Teramo che come di consueto si svolge nell'area antistante lo stadio Gaetano Bonolis di Pianodaccio la fiera vedrà la partecipazione di oltre 200 aziende da tutta Italia dalla costiera amalfitana al Piemonte su circa 25.000 metri quadri di area espositiva per i visitatori sono stati predisposti 2.400 parcheggi su un'area di quasi 3.000 metri quadri oltre a quelli riservati agli espositori e ai diversamente abili che potranno essere raggiunti mediante una corsia preferenziale Abbiamo cercato di rindirizzare questa fiera verso quella che deve essere una vera e propria fiera dell'agricoltura migliorando ciò che negli anni non dava proprio questa idea in più ci saranno molti convegni tematici che riguarderanno appunto il settore e partiranno dal giovedì fino alla domenica Ingrandita ed implementata anche l'area della fattoria didattica e quest'anno tra le novità lo spazio specifico con esemplari di pastore abruzzese ospitati nell'area dell'istituto di istruzione superiore di Popparozzi che in questa edizione sarà affiancato per spiegare iniziative tecniche e didattiche dalla Facoltà di Veterinaria e Agraria dell'Università di Teramo Porteremo il nostro museo del vino che però sarà natura ed arte cioè a fianco ai vini espossi, migliori vini di tutto l'Abruzzo ci saranno anche delle fotografie e anche delle opere d'arte per un connubio con la produzione del vino perché produrre vino è anche un'arte al Maggio Fest di Teramo Spazio al Cinema d'Autore ospite della manifestazione il regista Fabio Mollo che ha presentato i suoi ultimi lavori al Multisala Smeraldo ci sono sogni che si avverano e poi ci sono sogni che non hai neanche il coraggio di sognare perché hai paura che non si potranno mai avverare ecco tu per me sei uno di questi sogni io da ragazzo sono rimasto molto da studente di cinema quando studiavo cinema all'università sono rimasto molto colpito da tutto il cinema di Michelangelo Antonioni principalmente quello legato ai personaggi al racconto dei personaggi che interpretavano poi Monica Vitti quindi a quella isteria femminile che raccontava il suo cinema e poi racconto che faceva dei paesaggi dell'Italia che cambiava di questo progresso che stava andando da qualche parte non si capiva bene dove e dalla nostalgia, da quella solitudine che raccontava e sicuramente questi elementi hanno caratterizzato molto poi quel lavoro che ho fatto io da regista sia quando ero studente al centro sperimentale che poi sul mio primo film Il Sud è niente questa sera 9 maggio nella Multisala Smeraldo nella Sala 2 dalle ore 20 a 45 videa filmmakers abruzzesi e presenteremo con il vento di Claudio Romano la memoria lunga di Saverioni e Spitilli scherzo di Scacchiori e Core e praticamente una rassegna di brevi film di autori abruzzesi che hanno sicuramente un grande successo più fuori ragione che da noi ma non sono nuovi alla nostra rassegna da non perdere perché alla fine delle proiezioni Leonardo Persia incontrerà gli autori per una conversazione con il pubblico ed ora apriamo la pagina dello sport il nuovo attentato di cui è stato vittima due sere fa il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e sa spera ancora di più le tensioni intorno alla squadra che sta retrocedendo con numeri da brivido la polizia è già al lavoro per individuare i responsabili del gesto mentre si stringe sempre più il cerchio delle indagini per il primo attentato risalente a febbraio vediamo il cavario del Pescara si consuma tra i veleni nuovo atto intimidatorio nei confronti del presidente del Delfino Daniele Sebastiani sull'episodio avvenuto domenica sera intorno alle 23 sta indagando la polizia che sta nel frattempo stringendo ancora di più il cerchio per i fatti relativi al primo attentato subito dal patrono Biancazzurro l'incendio ha piccato nella notte tra il 6 e 7 febbraio scorsi all'esterno dell'abitazione di Sebastiani dove sono andate distrutte due vetture e che poteva avere conseguenze più serie per tutto lo stabile visto che le fiamme per poco non hanno raggiunto la condotta del gas del palazzo per questo episodio già tre giovani sono stati individuati e risultano indagati sono tre tifosi ma non appartenenti a gruppi organizzati sugli altri due gli investigatori sono prossimi all'individuazione la polizia ancora una volta potrà esaminare come avvenuto a febbraio le telecamere di sorveglianza poste all'esterno dell'abitazione di Sebastiani lungo la riviera nord per tentare di risalire all'autore o agli autori del gesto intimidatorio gli agenti non escludono alcuna pista ma anche in questo caso potrebbe essere ricondotto agli ambienti della tifoseria non organizzata e dovrebbe essere la conseguenza di ulteriori malumori a seguito della sconfitta casalinga contro il Crotone squadra volante Digos domenica sera hanno recuperato frammenti di un petardo di grosse dimensioni il boato fragoroso è stato sentito dagli abitanti della zona tra questi lo stesso Sebastiani che era da poco rientrato a casa il presidente del Pescara ha incassato le testimonianze di solidarietà dalle istituzioni in particolare dal sindaco Alessandrini e dall'assessore comunale allo sport Diodati ed ha ribadito che non si farà intimidire e che andrà avanti per la sua strada la tensione dunque resta alta pur in una stagione che ha già consumato il suo verdetto principale ovvero la retrocessione immediata del Delfino in Serie B e quel che più fa male la sequela di numeri negativi e record che sta accompagnando la disfatta sul campo dei Biancazzurri una disfatta cui neanche lo stesso Zeman con una squadra non fatta da lui né tagliata per il suo gioco ha saputo opporsi così è già tempo di programmare la prossima cadetteria con una rosa extra large di 50 giocatori da sfoltire e un progetto tecnico da ricostruire da capo nella testa del Boemo c'è già la consapevolezza che in pochissimi saranno a lui utili il prossimo anno il tutto mentre la società cerca ulteriore stabilità futura come dimostrano la missione in Cina di Sebastiani e l'incontro che il presidente del Delfino ha avuto col magnate kazako Ussein Kassanov Intanto è finita anzitempo la stagione di Ahmad Ben Ali il giocatore che era stato espulso domenica scorsa nel corso della gara casalinga con il Crotone il giudice sportivo ha inflitto infatti tre giornate di squalifica a Ben Ali si legge nel referto a seguito del provvedimento di ammunizione ha contestato l'operato arbitrale e rivolto al direttore di gara una espressione ingiuriosa dunque tre giornate e campionato finito per Ben Ali scendiamo in Lega Pro riprenderà a lavorare domani pomeriggio il Teramo per preparare il play-out salvezza con il Lumezzane gara d'andata in trasferta il 21 maggio il difensore Imparato si proietta già verso l'importante appuntamento dopo aver ritrovato il posto da titolare nella trasferta vittoriosa di Salò Imparato missione compiuta per quanto riguarda questa partita però c'è ancora da lottare ci sono altri due atti sì sicuramente quello il massimo che potevamo fare oggi l'abbiamo fatto insomma portando a casa questi tre punti adesso bisogna staccare bisogna azzerare tutto perché ci giochiamo un'intera stagione e quindi bisogna stare sul pezzo essere concentrati perché questa salvezza vale come un campionato hai ritrovato il posto da titolare dopo un'assenza anche per problemi fisici come stai? sicuramente non giocavo da un po' di tempo mi ha fatto piacere tornare erano già un paio di settimane che stavo meglio ho fatto il massimo sono contento di quello che ho fatto ma l'importante era vincere anche se poi non è valsa la salvezza ma siamo contenti tu non eri a Teramo in occasione delle due partite di campionato con il Lumezzane però insomma cosa ti aspetti una squadra questa abituata a lottare per salvarsi squadra scorbuti sì sicuramente è sempre un play out sicuramente abbiamo un piccolo vantaggio sulle due partite essendoci piazzati meglio ma sappiamo si può giocare però per lo 0-0 sicuramente no sarebbe un errore insomma però ripeto credo che il mood di queste ultime settimane sia stato quello incentrato sull'equilibrio non dobbiamo nemmeno snaturarci io credo che se rimaniamo concentrati e tutti insieme vogliamo lo stesso obiettivo anche con l'aiuto dei tifosi che capisco possono essere sicuramente rammaricati dispiaciuti per come sia andata quest'anno tutti ci aspettavamo di più però adesso c'è da lottare con i denti per salvare questa categoria e noi abbiamo bisogno anche di loro e ora il rugby nella semifinale di andata l'Aquila si imposta 30-19 sul Val Sugana un risultato che fa bene sperare in vista della gara di ritorno di domenica prossima tripudio al fattori per la vittoria in casa dell'Aquila Rugby Club che si aggiudica la semifinale di andata nei play-off per l'accesso al campionato d'eccellenza il massimo campionato italiano di rugby chiudendo il match con Val Sugana 30-19 il dominio è mischia chiusa una buona difesa ma soprattutto la rigorosa disciplina e l'incrollabile determinazione hanno permesso ai neroverdi di alzare il ritmo di gioco in partita e conquistare i 5 punti con il bonus offensivo scaturito dalle 4 mete messe a punto da Bascia Angelini più una meta tecnica la partita non inizia nel migliore dei modi nei primi minuti le due squadre prendono le rispettive misure e Roden il numero 10 Val Sugano mette a segno due calci di punizione a cui pone rimario Cozzi bilanciando il risultato con altrettanti calci piazzati dopo mezz'ora sarà la terza linea Bascia a mettere a segno la prima meta a neroverde schiacciata in superiorità numerica visto che dopo numerosi falli Papparone il numero 3 Val Sugano è fuori dal campo con un cartellino giallo il primo tempo si chiude quindi 11-9 uno spettacolare offload di retagliata apre il secondo tempo permettendo a Bascia di andare nuovamente in meta Roden tenta di far esalire il punteggio del Val Sugano a Angelini con un'azione spettacolare di intercetto vola inesorabile sotto i pali Cozzi trasforma e l'Aquila ormai è sopra il break gli spettatori e i fattori esultano colpo di scena quando con Lisciani il Val Sugano va in meta schiacciando con il disappunto del pubblico nei confronti dell'arbitro che convalida la meta nonostante un evidente passaggio in avanti confermato anche dal Guardaline in ogni caso i Nero Verdi non si lasciano sopraffare e imponendosi in mischia a pochi minuti dal termine conquistano la quarta fondamentale meta tecnica l'appuntamento col Sogno Nero Verde sarà domenica prossima a Padova per la giornata di semifinale di ritorno i ragazzi sono stati eccezionali perché c'è stato un momento soprattutto quando loro hanno fatto la meta e si sono riportati sotto che potevamo mollare e invece no abbiamo ripreso ancora di più alla grande siamo venuti a fare la quarta meta il quinto punto il punto di bonus che potrebbe essere utilissimo ancora c'è qualcuno che continua a fare i pronostici sbagliati sono 25 anni che sbagliano i pronostici sulle partite quando c'è di mezzo l'Aquila Rugby purtroppo l'Aquila è anche questa è sempre non abbassa mai il capo è sempre pronta a risorgere dalle sue ceneri e oggi veramente contro tutto e contro tutti i ragazzi hanno fatto veramente un'impresa porterò Graziano del Rio a vedere il mammut e la promessa del governatore Luciano D'Alfonso in appoggio alla nascita della Casa Museo dei Motori e della velocità a Spoltore il ministro delle infrastrutture dei trasporti del Rio il 15 sarà a Pescara per inaugurare il nuovo ponte Flaiano e verrà accompagnato anche a visionare l'attuale mammut in via Massera affacciato sul circuito della Coppa Cerbo dove correvano le monoposto della Formula 1 la Coppa Cerbo si correva su un percorso firmato da Diego De Sterlich Alberto Bucco Ring Mare Scalchi e Arturo Mercanti quest'ultimo fece costruire anche l'autodromo di Monza il più antico e famoso al mondo assieme a quello di Indianapolis D'Alfonso ha suggerito anche di dedicare uno spazio a Corradino da Scagno l'ingegnere di Popoli papà della Vespa e pioniere del volo verticale ed era questa dunque l'ultima notizia del TG6 che tornerà domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.